Salve a tutti, sono Francesca Mastrantonio e vengo da Roma. Mi sto applicando per la posizione in ambito risorse umane. Mi ritengo una persona dinamica e piena di energia e vorrei presentarmi a voi un po' più nel dettaglio. Ho una formazione in ambito economico con una laurea triennale in economia e finanza e una laurea magistrale in mercato del lavoro, conseguita ad ottobre del 2016 presso l'Università degli Studi Roma 3. Il motivo per cui ho deciso di proseguire il mio percorso in ambito risorse umane deriva essenzialmente dall'esperienza di 10 anni presso McDonald's dove ho lavorato come crum formatore, formando i nuovi assunti sulla vision e mission aziendale e sulle procedure operative e di sicurezza. Durante questi anni ho potuto constatare quanto sia importante una corretta formazione insieme a specifici piani di sviluppo. Ho notato come lo sviluppo personale sia importante per la persona ma molto di più per l'azienda, perché un lavoratore che è correttamente formato e informato, se si sente ascoltato e considerato quindi, agisce e lavora con un maggior commitment. In questi anni mi hanno anche tecnicamente insegnato che ogni persona è diversa, che apprende in modo differente. Quindi formando gli altri in un certo qual modo ho formato me stessa, acquisendo competenze che prima non avevo, affinando le mie capacità di problem solving, di lavoro in team e di gestione di un team, nonché di time management, essendo sempre stata uno studente lavoratore. Nel percorso di magistrale ho scelto di rimanere in ambito economico, ma focalizzando la mia attenzione sul mercato del lavoro, sia dal punto di vista organizzativo, sia giuridico, acquisendo quindi delle competenze che mi permettessero di avere una visione il più possibile a 360 gradi. La mia determinazione e la passione per le risorse umane quindi mi ha permesso di completare questo percorso prima dei tempi previsti, con ottimi risultati. La tesi magistrale è stata incentrata sulla figura del responsabile dei lavoratori per la sicurezza, l'RLS, e ho analizzato la best practice del caso degli RLS Toscana, che si sono uniti in un gruppo coeso, indipendentemente dalla sigla sindacale di appartenenza, per cercare di portare alla luce quelli che sono i problemi del comparto specifico, e coinvolgendo anche la regione, cercare di esportare questa loro best practice in tutta Italia. Loro hanno la voglia di far capire che ogni comparto ha delle problematiche specifiche, nonostante la legge 81 aiuti molto nella riduzione degli infortuni e nella prevenzione della salute e sicurezza, ci sono ancora dei punti che secondo loro vanno analizzati. Un altro elemento emerso da questa ricerca è che, nonostante la legge consenta a ogni lavoratore di essere eletto come RLS, questa figura, sin dalla sua creazione, è sempre stata legata al sindacato. Nella mia analisi ho cercato di capire quanto questo possa essere o meno un limite. Per far sì, ho avuto modo di interloquire con i rappresentanti nazionali della salute e sicurezza dei tre maggiori sindacati italiani, e di essere invitata a partecipare ad un evento dove il ministro interveniva in materia. Attualmente mi trovo a Londra per completare un percorso, grazie alla possibilità che mi è stata offerta dal bando Torno Subito della Regione, di un master in ambito risorse umane. Ho deciso di farlo all'estero perché volevo una prospettiva più ampia, volevo un punto di vista diverso. I found this master in international human resources management at Greenwich University really, really good. The project was structured for the first two months and with a course in specific English related to the HR, to the KBM Business School and then from January the course is moved to the university, Greenwich University. Touching elements such as international context of human resources management, human resources strategy, knowledge and consultancy interventions. The course was pretty hard, especially because of the complete different learning system, but allowed me to work with people from all around the world, relay myself with different cultures, develop my competencies in HR and improve my personal and interpersonal skills. I've been improving my English, attending classes, writing essays and working in group assignments. Work and live in such a multicultural city like London is is really enhancing. Now that the exams are passed and the course is finished, the program is continuing with a 12-week work experience as HR supports in a company here in London. Supporting and working in association with HR manager and CEO and learning how to deal and direct the human resources, deliver a team and comprehensive HR service and business employee relations. My passion and my determination are the reason why I've decided to apply for that position in London. The fact that both vision and mission of the company respect mine are really, really important for me. No matter where I've been, I always produce top-knock work because I'm dedicating to making sure that wherever I do, I stand out from the crowd. My enclosed CV could give you more details about my qualification and my skills and I'm here to discuss with you the HR stage position open and learn more regarding your company. Tener la posibilidad de ser parte de una empresa que crees en sus recursos humanos, que se ocupa desarrollar programas de movilidad manteniendo al mismo tiempo su cultura y contraendo también la innovación y el intercambio de las mejores prácticas sería un honor para mí. También se puede hacer que el conocimiento adurrido en la relación sindacales y en el funcionamiento del mercado del trabajo desde un punto de vista organizativo y legal creo que puede ser una contribución real para todos. teniendo en cuenta lo importante el cambio que se han producido en los últimos años en el nuestro país. Per terminare vorrei dire que hay diversos hobby que cerco de coltivar prima de todos lo yoga y la salsa cubana pero me gusta mucho la decoración de internos y el cuchillo creativo de que tengo cursos para los neofitos. Soy una donatrice sangue del 2001 y es un elemento que según me es muy importante ayudando a los otros ya desde el punto de vista de crecimiento de personalidad ya desde el punto de vista de condivisione. Espero de continuar a este percorso en el vi auguro una buena giornata arrivederci y